la puttrella sono stato troppo di là pensavo di fare tutte e tre la crestina e invece me l'ha spostata giù basta 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 quasi quasi vado giù a rifarla io mi ho andato qui ho scelto il jolly della madonna basta bravo guarda io c'è altri tre due o tre aspetta che vuoi filmarmi non è successa una cosa così e te non stare troppo avanti io? no lui lì lì dovevi entrare giusto lì giusto lì grazie a tutti